Allora, buongiorno e buon ventesimo vlogmas Che dire, io questa cucina ce l'ho sempre in aria E anche se ho tutta casa in aria Il tavolo ho pure spostato che un altro poco mi arriva sul lavello Quindi parto da qua perché è quella più risotta male E se riesco cerco di riuscirci Voglio fare i vetri come ha fatto Maria Marinella Con acqua e alcol Quindi mi sistemo qua la cucina Iniziamo Allora, mi poggio qui Attenzione Allora, questa sedia già vuole di là Allora, mi poggio qui Allora, mi poggio qui Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. metto. e a tutti. 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 e a tutti.